Nel 2018 oltre 4.000 persone si sono rivolte alla San Vincenzo dei Paoli. 1.800 hanno chiesto un pasto caldo o una spesa, a base di pane, latte, olio e prodotti per l'infanzia. I dati parlano chiaro. A Prato ci sono sempre più persone, non solo straniere, che fanno fatica a consumare un pranzo al giorno. Tante così le iniziative che vengono promosse dalle associazioni di volontariato. Oggi si è conclusa la ventitresima edizione della colletta alimentare e dell'amministrazione per far fronte ai bisogni delle famiglie. Ci sono numerosi altri disagi a cui le famiglie vanno incontro quando si trovano con dei bilanci familiari molto ristretti. Utenze, affitti. Le persone si rivolgono alla San Vincenzo, secondo le statistiche 2018, sono oltre 4.000 per un corrispondente di circa 1.200 nuclei familiari. Di questi 4.000, 1.800 circa sono più direttamente interessati al disagio alimentare. C'è una nostra conferenza che distribuisce dei cestini serali. A questo si aggiunge la distribuzione di circa 200 passi da parte dei servizi sociali, che vengono consegnati a domicilio, che si sommano ai 400 giornalieri della Mensa Lapira. Intanto per gli anziani soli continua a funzionare il progetto C'è passo per te, che in poco meno di un anno di vita ha raggiunto anche i 100 coperti al giorno, suddivisi fra i circoli di Maliseti, Borgo Nuovo e Cherubini. L'intenzione è quella di rifinanziare il progetto da parte della regione, tra l'altro altri soggetti hanno chiesto di aderire al progetto e quindi l'intenzione è quella di andare a coprire maggiormente il territorio. E c'è anche chi passa dall'altra parte della barricata, diventando volontario. E' una bella esperienza, perché poi mi sono messo anche a cucinare, a fare, beh è una cosa bellissima.